Sky Sport Italia, preparatevi, siete i primi, poi passo la Repubblica. Buongiorno a tutti, grazie per essere venuti. Buongiorno all'equito. Chi comincia? Cominciamo da Sky, Ugolini sulla destra. Per caso, solo per caso. Buongiorno, buongiorno, ciao Lorenzo. Ciao. Senti, la prima domanda d'obbligo è un tuo commento sulle parole del Presidente, cioè sul fatto che lui vuole vincere lo Scudetto, che questo Napoli secondo lui ha la possibilità di farlo, e voglio capire se la tua linea di pensiero è la stessa di Aurelio De Laurentiis. Sì, sicuramente sì, perché dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo iniziato l'anno scorso con il mister. Dobbiamo stare uniti insieme, chi arriva, chi parte. Anche i nuovi arrivi dobbiamo subito integrarli nel gruppo e creare una mentalità vincente per arrivare a vincere lo Scudetto. Grazie. Grazie.